Vince il primo festival della canzone italiana di New York, Stefano P. Brumare! Sì, sì, sì! Siamo qui al Baccheri Studio in fase di preparazione, i tecnici, l'ingegnere del suono si stanno impegnando affinché i preparativi possano giungere al termine per accomodare al meglio il quintetto d'archi, protagonista in questa mia nuova produzione discografica. È una forte emozione essere qui a ripresentare una canzone che per me è stata la mia prima presentazione discografica. Mare, poi diventata oggi il nostro mare, rielaborata con Quintetto d'archi sarà una bella sfida. Thank you very much your song and the arrangement is very nice and I hope the orchestra will record like the way we always wanted, to sound great, to show all the best of the music and so you can sing it to your best and it will become a greatest hit of all. Oggi la cosa è bellissima perché Stefano ha voluto fare questa sfida che difficilmente i cantanti fanno di musica pop. Salvando la sua vita da una terra che in guerra sta dalla fame e ingiuste violenze di credenze che in questo sentimento, quella poesia che il quintetto d'archi riesce a trasmettere credo che sia la traduzione eccellente di quel sentimento. è molto bellissima musica che mi fa, che dà una grazia che mi fa, che mi fa, che ti fa... Ciao! Ciao!